Il tema è quello dell'autonomia differenziata con il coordinamento per la democrazia costituzionale che al suo interno racchiude tante realtà, tra le quali anche Arci, che hanno una proposta di iniziativa popolare per cambiare qualcosa. Cosa non vi convince di ciò che è contenuto all'interno della riforma Calderoli? Siamo qui per presentare questa raccolta firme per una legge di iniziativa popolare proprio per riformare l'articolo 116 e 117 della Costituzione attraverso i quali alcune regioni, soprattutto del nord Italia, si sono appellate al governo per attivare l'autonomia differenziata. In particolare quello che ci preoccupa è fondamentalmente i temi che questa riforma andrebbe a normare che sono quelli della sanità e dell'istruzione. In soldoni, se ciò dovesse trovare compimento, si potrebbe arrivare a una regionalizzazione della scuola e a un'abolizione del servizio sanitario nazionale. Credo che sia importante garantire a tutti i cittadini una parità di accesso. E qui lo Stato è importante che entri in gioco contro una regionalizzazione che ha creato queste differenziazioni che io definirei incostituzionali. Dove sarà possibile la raccolta firme e soprattutto le tempistiche? Entro il 5 maggio bisogna fare la raccolta delle firme che saranno fatte presso tutti i circoli Arci, Acli e nelle sedi della CGL, della nostra organizzazione sindacale. E anche è stato attivato un sito internet per la raccolta firma digitale all'interno del sito coordinamento per la democrazia costituzionale.